La madre di Andrea Zenga, ieri, nel corso di una diretta su Instagram nel suo talk a casa mia, ha voluto chiudere definitivamente la questione che vede i due innamorati come possibili concorrenti di Temptation Island. Nonostante più volte i diretti interessati abbiano smentito un possibile ingresso in questo reality. Infatti, Rosalinda aveva spiegato ai fan, non credo sia il programma giusto per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto. La madre di Zenga ha voluto chiudere la questione definitivamente dichiarando. Andrea e Rosalinda non faranno Temptation Island. Queste sono le dichiarazioni di Roberta Termali, madre dell'ex Geffino che ha poi aggiunto. Lui ha già dato, in questo senso, e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore. Le esternazioni di Roberta sono giunte nel corso di una chiacchierata con Armanda Frassinetti, la madre di Tommaso Zorzi. Con lei la giornalista ha parlato anche del cammino del figlio al grande fratello Vip. La Termali ha un piccolo rimpianto, quello di non aver potuto vedere Andrea nella casa da appena iniziato il gioco. Voi preferivate vederli in un nuovo reality? Fatecelo sapere nei commenti.